Vincenzo Fanizza, è stata una battaglia oggi con la Russia ma ne è valsa la pena, medaglia di bronza all'europeo. Sì, sì, dopo la delusione di ieri abbiamo perso 3-2-15-13, non era facile ricaricare le batterie, però sinceramente come progetto tantissime volte continuerò a tirlo, questo è un gruppo molto intelligente, fatto di ragazzi che amano questo sport e sinceramente mi va di ringraziare tutti i loro genitori che sono venuti, tutte le loro società di appartenenza e portiamo un'altra medaglia nel palmareste della federazione. Ci voleva e è meritata questa medaglia perché solo una sconfitta nel torneo non può cancellare quanto di buono fatto. Sì, 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 è stato bello perché come ho già detto ci siamo ripagati di questo impegno, questo percorso che abbiamo fatto con i ragazzi. Un po' di amaro in bocca per la sconfitta di ieri, mi ripeto, però prima di partire per questa manifestazione avremmo firmato per altri obiettivi. Sinceramente siamo andati non oltre perché chiaramente sono ragazzi talentuosi, però ci godiamo questa medaglia di bronzo.